Bonus tende da sole e zanzariere. Come godersi l'estate spendendo la metà? Vuoi goderti l'estate spendendo la metà? Scopri come risparmiare sulle tasse installando tende da sole o altri tipi di schermatura solare grazie agli ecobonus e alle detrazioni fiscali. Fino al 31 dicembre 2024, tutto ciò che può proteggerti dal sole come tende, persiane o pergole gode del 50% di recupero fiscale sulle spese di installazione. Non perdere questa opportunità! Dopo aver installato la tua protezione solare, ricorda di compilare la pratica Enea Eco Bonus sul sito ufficiale Enea. Inserisci i dati richiesti, tra cui la stima del risparmio energetico annuo. Anche l'installazione o l'acquisto di zanzariere dà diritto alla detrazione fiscale. La spesa massima è di 60.000 euro per casa, quindi approfitta di questa opportunità anche se possiedi più immobili.